Con messaggi minacciosi, foto e note vocali avrebbero tentato, provando a intimidire, di imporre assunzioni di familiari e amici, ma anche retribuzioni non dovute a rescissione di contratti di locazione. A essere presi di mira dal dicembre del 2019 sino allo scorso agosto sarebbero stati più imprenditori, soprattutto coloro che si occupano della raccolta dei rifiuti. Tre, gli empedoclini che sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento, in esecuzione di un'ordinanza cautelare ai domiciliari firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Filippo Serio, GIP, che ha disposto anche l'applicazione del braccialetto elettronico, ma è stata esclusa l'aggravante dell'associazione di tipo mafioso. Ai domiciliari sono stati posti con l'accusa di concorso intentata estorsione Giuseppe Migliara, di 61 anni, Giuseppe Freddoneve, di 34 anni, e Filippo Freddoneve, di 59. L'inchiesta della squadra mobile, che è coordinata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi e dalla DDA di Palermo, ha preso il via dopo la denuncia di uno degli imprenditori, che era stato bersaglio di richieste estorsive e di tentativi di intimidazione.